Nuovo podcast per parlare di un'azione, l'unica azione su cui punterei un bel po' di soldini ad occhi chiusi chiaramente per il mio stile di investimento parlo sempre di aziende solide dal mio punto di vista se avete ascoltato gli altri podcast avete ben capito che deve essere tutto proporzionato un po' al vostro orizzonte temporale, un po' al rischio che vi volete prendere quindi anche al vostro profilo quindi è molto importante capire alcune cose anche in base ai capitali che avete una persona che ha dei capitali più piccoli chiaramente tende a rischiare molto di più di uno che ha capitali più grossi prima di parlarvi di questa azienda io vi volevo ricordare che al di là del fatto che siamo in un periodo molto importante perché tra una decina di giorni ci saranno le elezioni americane che potrebbero cambiare un po' tutta l'economia o meglio il modo di vedere l'economia in America e quindi tutte le cose che potrebbero influenzare un po' la finanza e quindi le borse internazionali nel breve periodo e una delle cose da fare secondo me in questo proprio periodo particolare è proprio quello di stare belli tranquilli e avere pazienza lo ribadisco per l'ennesima volta perché so che le tentazioni sono forti perché secondo me ci sono molte molte belle aziende su cui investire se per esempio vince Biden se vince Biden secondo me ci sono molte più aziende interessanti rispetto a se vince Trump perché bene o male sappiamo la sua politica invece questa azienda di cui parlo oggi va bene per si vince sia Trump che Biden anche perché è un'azienda particolare che ha un po' di amicizia sia a sinistra che a destra che è ben vista sia da una parte che dall'altra e quindi è un'azienda su cui ci si può affidare totalmente io colgo l'occasione visto che si parla di aziende per ricordarvi che nel gruppo Facebook di cui sono amministratore cambiare tutto, cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza ci sono tanti membri che intervengono per parlare non solo di argomenti ma proprio per parlare di azioni singole o di ETF e anche oggi sono uscite fuori un paio di azioni davvero molto interessanti alcuni che non conoscevo proprio specialmente per quanto riguarda il tema dell'idrogeno per esempio che è uno dei temi che spesso si discute sul gruppo visto che siamo comunque un gruppo che fa previsioni quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi e tornando a noi tra l'altro ultima parentesi e poi chiudo l'argomento gruppo qualche giorno fa proprio ricollegandomi ai post ai podcast precedenti si è parlato anche di un bond al 6% molto molto interessante dal mio punto di vista questo per ricollegarmi al fatto che se guardate sul web in giro da tutte le parti ormai c'è praticamente questo ripetersi, continuare a dire che le obbligazioni non rendono niente praticamente stanno a zero, non è vero ci sono tante obbligazioni davvero molto interessanti e non so se la media dei prossimi 10 anni dell'MSI World giusto per citare uno degli indici più famosi azionari sarà superiore al 6% vedremo anche perché poi c'è da ricordare una cosa e mi piace ricordarla, già l'ho detto in passato ma è sempre bene ricordarselo cioè i dividendi che nel caso di obbligazioni sono cedole cioè all'MSI World vengono tassate al 26% invece le cedole delle obbligazioni vengono tassate al 12,5% cioè ripeto qua è una cosa non da poco quindi ricordiamoci sempre queste cose qua perché poi quello che conta alla fine è al netto di tutto quello che andiamo a metterci in tasca questa è la cosa principale e invece ritornando all'azione io voglio ricordare che questa azione è in auge praticamente da 20, 25 ma forse pure 30 mettiamole anche 30 anni perché già da metà di anni 90 questo titolo è stato un lungo risalire è stato un lungo essere leader nel mercato azionario e il suo padrone, il suo CEO, il suo capo fondatore è stato per lungo tempo ed è ancora tuttora nella stragrande maggioranza degli anni quasi sempre devo dire la verità l'uomo più ricco al mondo sto parlando chiaramente di Bill Gates e della sua azienda la Microsoft perché Microsoft è l'unica azienda su cui veramente punterei sul lungo termine e non altre più di tutto perché è un'azienda su cui si può fare totale affidamento visto che ormai sono almeno 20-25 anni che praticamente è tra le biche nella top 10 delle aziende più capitalizzate e questo è molto importante perché significa che è un'azienda molto molto solida e che riesce a reagire molto bene alle varie crisi che ci sono state nel tempo questa qui forse è stata la più facile per loro perché chiaramente tutto quello che era collegato al digitale ad internet è stato agevolato chiaramente dalla crisi del coronavirus e del lockdown conseguente di marzo e i vari servizi che loro hanno offerti e che nell'arco del tempo sono cambiati perché ricordiamoci che Microsoft nasce praticamente solo come un'azienda di software essenzialmente quindi faceva il suo sistema operativo, vendeva Office, vendeva i suoi pacchetti di software e praticamente faceva solo questo poi man mano ha cambiato e ha fatto altre cose e si è buttato praticamente in tutti i business addirittura anche nel business della telefonia e sappiamo tutti che gli è andata molto male con il suo Windows Phone che praticamente alla fine era semplicemente l'acquisizione della vecchia Nokia e forse è stato l'unico in successo di Bill Gates che invece anche nei sistemi attuali come per esempio il cloud riesce ad essere leader e prima dicevo che è ben visto sia dalla sinistra sia dalla destra dalla sinistra perché ha sempre avuto buoni rapporti con questa entourage chiamiamola così e invece con la destra è stato molto fortunato dal mio punto di vista perché Trump ha un forte odio verso Jeff Bezos che poi è il vero leader che cerca di contrastare Microsoft quando si parla di grossi appalti uno dei più famosi è sicuramente quello là riguardante la fornitura del cloud al Pentagono e c'è anche una causa bella forte stiamo parlando di un apparto da 10 miliardi non 4 bazzecole e Jeff Bezos è in causa e pensa che sia stato favorito sia in maniera non regolare appunto Microsoft e intanto l'ha preso l'appalto Microsoft e questo la dice lunga poi alla fine anche perché poi ci sono i fatti infatti poi è difficile contrattirli nel tempo dal mio punto di vista devi avere delle prove veramente schiaccianti del fatto che ci sia stato un favore da parte di Trump nei confronti di Bill Gates altra cosa che mi fa preferire per esempio Microsoft alle altre big tipo Apple giusto per dirne uno la stessa Amazon Google o Facebook è che appunto queste quattro società queste altre sono state richiamate guarda caso anche dal governo americano per un problema di antitrust è un problema serio e ricordiamoci che anche qui molto probabilmente il governo americano indipendentemente da chi esce sia Trump che Biden prenderà dei provvedimenti non sappiamo quanto saranno duri sappiamo solamente che ci vorrà del tempo e vedremo come va a finire questa storia tra l'altro può essere molto probabilmente che non è nemmeno una storia a breve termine nel senso che può essere che verrà dichiarata che verrà preso un provvedimento poi ad attuarli questi provvedimenti è sempre è sempre difficile questa è la verità fatto sta che Microsoft non è stata richiamata eppure non mi sembra che non abbia una posizione dominante nel suo campo cioè penso che la stragrande maggioranza dei computer siano dei Windows senza nessun dubbio e quindi credo davvero che sia stato fatto anche qui un favore a Microsoft tra l'altro Microsoft che immagina utili su utili profitti su profitti e secondo me la cosa come dire migliore che è riuscito a fare in questi 25 anni in cui è stata sempre al top è quello praticamente di adattarsi alle varie evoluzioni che ha avuto Internet e tutto il mondo digitale in generale guardate per una società è molto molto importante questa cosa qui cioè pensate solo al cloud pensate se Microsoft non si fosse buttata sul cloud che che disastro sarebbe stato e invece Microsoft è sempre al passo acquisisce sempre nuove società e secondo me continuerà ad esserlo ha molta liquidità ha molte entrate derivanti anche non solo dal da una sola cosa ma ha molteplici entrate da molti settori e penso che davvero riuscirà a essere al top anche per i prossimi anni a differenza secondo me di qualcuna delle altre quattro big che che ho segnalato e cioè parlo di Alphabet Google Alphabet e parliamo di Facebook Apple e Amazon che secondo me invece qualche problemina lo potrebbe avere incominciando appunto da da Facebook che è in calo negli ultimi anni come utenti e non a caso ha perso anche molta molte pubblicità delle big perché non si è saputa schierare poi sotto sotto certi punti di vista alle nuove evoluzioni del mondo in generale e questo è sempre da prendere in considerazione come le società come le aziende si riescono ad adattare alle nuove esigenze poi delle della popolazione basta pensare appunto a un altro social network invece che sta facendo il boom negli ultimi anni e parlo di TikTok parlo di TikTok perché TikTok veramente sta guadagnando utenti su utenti e Facebook invece ne sta perdendo a discapito di tanti altri social che sembrano invece adattarsi meglio alle nuove esigenze della popolazione mondiale perché ricordiamoci che queste società che ho citato sono tutte società ormai globalizzate penso che il concetto di fondo sia molto chiaro per se volete sapere di aziende invece particolari su cui invece io investirò sicuramente o ce l'ho in portafoglio o per sapere i movimenti che sto facendo di swing trading o semplicemente per creare dei portafogli vi ricordo che c'è Patreon patreon.com slash cambiare tutto oppure troverete nelle info o nella descrizione del podcast tutte le informazioni e dategli un'occhiatina semplicemente o contattatemi per delle informazioni se le volete avere o semplicemente contattatemi per fare delle domande molto molto semplici io penso che questo è davvero tutto per il fine settimana devo fare qualche video youtube su qualcosa di interessante sempre riguardante quello che è successo nei 20 25 anni e fare un po' di paragone questa volta tra obbligazioni e azioni facendo proprio vedendo proprio visivamente qualcosa che secondo me molti non hanno capito solamente a parole quindi glielo devo far vedere visivamente così si renderanno conto di tante cose ecco questo è proprio tutto anche perché mi stanno telefonando come state vedendo io rispondo e vi saluto alla prossima ricordandovi sempre che siete sotto il fuoco nemico e vi saluto e vi saluto